L'ha ripreso oppure puoi picchierare? Noi non sono sbagliati! Ma lo so, non sono sbagliati! Qui c'è l'espressione, ora non si trova! Si, l'abbiamo la domenica, spettino oggi! E' un gioco! Non si trova, non si trova! E' un gioco! Ti fa, ti fai! Vai vedermi! E' un tempo di Corso! Ecco, prendo! Bravo! 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 io ho dato una sola manzia bravo a Cristo bravo 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 Ascolta